Fare questo lavoro mi ha anche consentito, dico la verità, di conoscere molto meglio, più da vicino, la realtà delle nostre Forze Armate. Anzitutto di apprezzarne il contributo crescente che state dando alla sicurezza interna del nostro Paese. Perché oltre al contributo storico dell'Arma dei Carabinieri è andato crescendo negli ultimi anni un ruolo che credo i cittadini italiani apprezzano sempre più, sia di collaborazione delle Forze Armate, dell'esercito in particolare all'ordine pubblico attraverso l'operazione Strade Sicure, sia l'impegno generoso a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto. Quante volte ci siamo trovati con il generale Graziano e con diversi quadri militari dell'esercito e di altre Forze Armate, la Guardia di Finanza e di tantissimi di voi nei luoghi colpiti dal terremoto. E aver visto le vostre divise è stato un modo attraverso il quale le popolazioni colpite dal terremoto hanno sentito vicino le istituzioni in generale. E poi c'è questa straordinaria realtà dei nostri 6.100 donne e uomini che sono impegnati nei teatri all'estero. Come sapete sono impegni che si svolgono attraverso operazioni Nazioni Unite, operazioni Unione Europea, operazioni Nato, operazioni bilaterali, multilaterali, hanno dimensioni diverse, sono tutte io credo caratterizzate da servire i Paesi e le cause per le quali sono impegnate, ma innanzitutto servire il nostro Paese, rafforzarne l'immagine, il ruolo, la reputazione. Questo avviene sia per le missioni storiche, il Kosovo, l'Afghanistan, il Libano, quest'ultima chiamata naturalmente dall'attualità geopolitica a fronteggiare situazioni che potrebbero rivelarsi sempre più complesse nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Ma di semplice, nonché i teatri che ho citato prima, l'Afghanistan o i Balcani, siano del tutto pacificati, tutt'altro. Le missioni storiche, la grande missione che negli ultimi 4-5 anni ha visto l'Italia dare il contributo numericamente più rilevante dopo quello degli Stati Uniti al contrasto a Daesh in Iraq, attraverso le nostre presenze sia in Iraq, sia in Kuwait e sia dal punto di vista logistico, aereo, nella base, negli Emirati. Questa realtà, assieme all'addestramento delle forze kurde, ha fatto riconoscere a livello internazionale, il ruolo delle nostre forze armate e dell'arma dei carabinieri come fondamentale in questa azione di sconfitta di Daesh, che ha, almeno dal punto di vista del controllo territoriale, raggiunto un successo nel 2017. E oggi siamo impegnati, naturalmente, nella fase non certo più facile del contrasto alle possibili ripercussioni, i foreign fighters, le destabilizzazioni, ma intanto, e forse non sempre gli diamo l'importanza che meriterebbe, abbiamo raggiunto un grande successo politico e militare, perché per la prima volta c'era un gruppo terroristico che controllava una parte di territorio tra Siria e Iraq molto diffusa e che rappresentava una calamita di attrazione per potenziali seguaci e terroristi anche nei nostri paesi, che è stata finalmente sconfitta. E infine abbiamo il grande impegno che ci vede presenti nel mare Mediterraneo, attraverso le diverse missioni europee e Nato, che ci vede presenti in Libia, che ci vede presenti in Africa in generale, sui temi del contrasto al traffico di esseri umani, del contenimento dei flussi migratori, della costruzione di capacità da parte di stati falliti, come è stata la Somalia, e di situazioni che restano molto, molto complesse, come la Libia ed altre. Qui si fondono, io credo, alcune caratteristiche della presenza italiana. Noi siamo innanzitutto alleati affidabili, siamo alleati affidabili della Nato e dell'Unione Europea. Contemporaneamente siamo attenti alla tutela dei nostri interessi nazionali, perché se guardate anche la dislocazione di queste forze e i teatri in cui sono dislocate, stiamo parlando di Mediterraneo, stiamo parlando di Medio Oriente, stiamo parlando di minaccia terroristica, stiamo parlando di un impiego delle nostre forze armate su teatri anche lontani, che non è solo un contributo alla comunità internazionale, come previsto peraltro dalla Costituzione, ma è anche un contributo alla tutela dei nostri interessi di sicurezza e strategici, perfino economici. Infine siamo diventati nel corso di questi decenni una presenza internazionale militare particolarmente apprezzata perché è capace di dare un suo contributo italiano alla pacificazione, alla ricostruzione delle istituzioni, a quel mix che è fondamentale tra la forza, la diplomazia, la conoscenza del territorio.